la disdetta di pitagora perbacco rimettendomi il cappello mi voltai a guardare la bella sposina tra il fidanzato e la vecchia madre ma come strillavano di felicità sull'astrico della piazza assolata nel mattino domenicale le scarpe nuove del mio amico e la fidanzata con l'anima tutta ridente nell'azzurro infantile degli occhietti irrequieti nelle guance invermigliate nei dentini lucenti sotto l'ombrellino sgargiante di seta rossa si faceva vento 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 quasi a smorzar le vampe della gioia e del pudore la prima volta che si mostrava così per via bambina alla gente con a fianco dri 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 quel pezzo di promesso sposo esageratamente nuovo pettinato profumato e soddisfatto rimettendosi in capo il cappello piano che la pettinatura non si guastasse si voltò anche lui l'amico mio a guardarmi oh che c'entrava mi vide fermo in mezzo alla piazza e chinò capo con un sorriso impacciato risposi con un altro sorriso e un vivace gesto della mano che voleva dire mi rallegro e fatti pochi passi mi voltai di nuovo non m'aveva fatto tanto piacere quella vispa figurina tutta accesa della piccola fidanzata quanto l'aria di lui dell'amico mio che non vedevo da circa tre anni o non si voltò anche lui a guardarmi una seconda volta che sia geloso pensai camminandomi a capochino ne avrebbe ragione in fin dei conti è proprio carina perbacco ma lui lui non so mi era sembrato anche più alto di statura prodigi dell'amore e poi tutto ringiovanito negli occhi specialmente nella persona così evidentemente carezzata da certe cure affettuose di cui non l'avrei mai stimato capace conoscendo lo nemico di quegli intrattenimenti intimi e curiosissimi che ogni giovanotto suole avere con la propria immagine per ore e ore davanti a uno specchio prodigi dell'amore dov'era stato in questi tre ultimi anni qua a Roma prima abitava in casa di Quirino Lenzi suo cognato che era poi il vero amico mio infatti egli per me propriamente si chiamava più il cognato di Renzi che Bindi di casa sua era partito per Forlì due anni prima che Renzi lasciasse Roma e non l'avevo più riveduto ora riaccolo a Roma è fidanzato ah caro mio seguitai a pensare tu non fai più certamente il pittore dri 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 le sue scarpe strillano troppo di che ti sei voltato ad altro mestiere che ti deve fruttar bene ed io te ne lodo nonostante che cotesto nuovo mestiere t'abbia persuaso a prender moglie lo rividi due o tre giorni dopo quasi alla stessora di nuovo insieme con la promessa sposa e la futura suocera altro scambio di saluti accompagnati da sorrisi inchinando lievemente pur con tanta grazia il capo mi sorrise anche la sposina questa volta da quel sorriso argomentai che Tito le aveva certo parlato a lungo di me delle mie famose distrazioni di mente e anche detto che Quirino Renzi suo cognato mi chiamava Pitagora perché non mangio fagioli e spiegato anche perché a modi ingiudia scherzosa si può chiamar Pitagora a chi non mangi fagioli eccetera eccetera cose che fanno tanto piacere ma accorsi che segnatamente alla suocera questa faccenda dei fagioli e di Pitagora aveva dovuto fare una buffissima impressione perché incontrandoli in seguito non so più quanto altre volte sempre tutte e tre insieme quella vecchia marmotta sbruffava proprio a ridere senza neppur curarsi di nascondere la risata dopo aver risposto al mio saluto e si voltava anche a guardarmi ridando ancora avrei voluto ripigliar Tito qualche volta da solo a solo per domandargli se la presente felicità non offrisse a lui alla sposina e alla futura suocera alcun'altra cagione di riso e in questo caso compiangerlo ma non mi venne mai fatto desideravo inoltre da lui qualche notizia di Renzi e della moglie ed ecco un bel giorno arrivarmi da forlì questo telegramma brutti guai Pitagora sarò a Roma domattina trovati stazione ore 8 e 20 Renzi oh come pensai c'hai qui il cognato e vuoi essere accolto da me alla stazione feci su quel brutti guai un mondo di supposizioni tra le quali la più ragionevole mi sembra questa che Tito stesse per contrarre un pessimo matrimonio e che Renzi venisse a Roma per tentare di mandaglielo a Monte dopo circa tre mesi di saluti e di sorrisi confesso che nutrivo già per quella bambola di sposina un'antipatia irresistibile e qualcosa di peggio per la madre il giorno appresso alle 8 ero alla stazione e ora giudicate voi se io non sono davvero perseguitato da un destino buffone arriva il treno ed ecco Renzi al finestrino di una vettura mi precipito ma le gambe all'improvviso mi si piegano mi cascano le braccia ho con me il povero Tito mi fa Renzi additandomi pietosamente il cognato Tito Bindi quello lì come? e chi avevo io dunque salutato per tre mesi lungo le vie di Roma eccolo là Tito addio mio qual è stato ridotto Tito Tito ma come? tu malbetto Tito mi butta il braccio al collo e scotta in un pianto dirotto guardo Renzi a bocca aperta ma come? perché? mi sento impazzire Renzi allora mi accenna con una mano alla fronte e sospira chiudendo gli occhi chi? lui? io? o Tito? chi è il pazzo? su via Tito esolta Renzi il cognato calmati calmati aspetta un po' qua tieni d'occhio queste valigie io vado con Pitagora a ritirare il baule e andando mi narra sommariamente la storia miseranda del povero cognato che da circa due anni e mezzo aveva appreso moglie a Forlì gli erano nati due bambini uno dei quali dopo quattro mesi era accecato questa disgrazia l'impotenza di provvedere adeguatamente con l'arte sua ai bisogni della famiglia le continue liti con la suocera e con la moglie sciocca ed egoista gli avevano sconcertato il cervello ora Renzi lo conduceva a Roma per farlo visitare dai medici e divagarlo un po' se non avessi visto con gli occhi miei il Tito ridotto in quello stato avrai senza dubbio creduto che Renzi come tant'altre volte volesse farsi beffe di me tra lo sturdimento e la pena gli confesso allora l'equivoco in cui ero caduto come io cioè fino al giorno avanti avessi salutato Tito promesso sposo per le vie di Roma Renzi nonostante la costernazione per il cognato non può tenersi dal ridere t'assicuro gli dico io tale e quale proprio lui in persona da tre mesi ci salutiamo e ci sorridiamo siamo divenuti amiconi ora sì noto la differenza ma perché Tito poverino sfido e non si riconosce più io saluto ogni giorno invece Tito qual era prima che partisse per Forlì tre anni or sono ma proprio lui sai Tito Tito che guarda Tito che parla Tito che sorride Tito che cammina Tito che mi riconosce e mi saluta proprio lui proprio lui figurati che impressione mi ha fatto di vederlo così ora dopo averlo veduto ieri verso le quattro felice e raggiante con la sposina accanto la mia disdetta vuole che di tutto quello che io sento nessuno mai debba o voglia tener conto Renzi come ho detto rideva e poco dopo per distrarre il manato gli volle raccontare questa bella avventura sentite ora che ne seguì quel poveretto rimase in prima stranamente stupito del mio abbaglio ci lavorò su un pezzo con la fantasia durante il tragitto dalla stazione all'albergo e alla fine afferrandomi per un braccio con tanto d'occhi sbarrati confitti nei miei mi gridò Pitagora hai ragione mi sbaventai mi provai a sorridergli che vuoi dire caro Tito dico che hai ragione ripete egli senza lasciarmi con un brio di luce terribile negli occhi sempre più sbarrati non ti sei ingannato quello che tu saluti sono io proprio io Pitagora e non ho mai lasciato Roma mai mai chi dice il contrario è mio nemico qua qua tu hai ragione io sto qua sempre a Roma giovane libero felice come tu ogni giorno mi vedi e mi saluti caro mio Pitagora respiro respiro che peso mi hai lavato dal petto grazie caro grazie grazie sono felice felice e rivolgendosi al cognato abbiamo fatto un brutto sogno Quirino mio dammi dammi un bacio sento il gallo cantare di nuovo nel mio vecchio studio di Roma Pitagora qui presente te lo dice è vero Pitagora è vero ogni giorno tu mi incontri qua a Roma e che faccio io a Roma dillo a Quirino faccio il pittore il pittore e vendo no se mi vedi che rido vuol dire che vendo va benone viva la gioventù scapolo libero felice e la smosina mi lasciai scappare disgraziatamente senza avvertire che Renzi per prudenza poco fa nel raccontargli l'equivoco aveva tralasciato questo pericoloso particolare il volto di Tito si abbuiò ad un tratto mi riafferrò questa volta per tutte e due le braccia che hai detto come prendo moglie e guardò sbicottito il cognato ma che mi faccio io subito per rimediare a un cenno di Renzi ma che caro Tito so bene che tu scherzi con quella marmottina scherzo ah scherzo dici incalzò Tito infuriandosi stravolgendo gli occhi e agitando le pugna dove sono dove sto dove mi vedi bastonami come un cane se mi vedi scherzare con una donna non si scherza con le donne si comincia sempre così Pitagore mio e poi e poi scoppiò di nuovo in pianto coprendosi il volto con le mani in vano io e Renzi cercammo di quietarlo di consolarlo no no ti rispondeva se prendo moglie anche qui a Roma sono rovinato rovinato vedi come mi sono ridotto a far lì caro Pitagora salvami salvami per carità a ogni costo bisogna impedirmelo subito anche lì ho cominciato scherzando e tremava tutto come per brividi di febbre ma se noi siamo qui per pochi giorni soltanto gli disserenzi il tempo di contrattare con due o tre signori per l'acquisto dei tuoi quadri come sarà rimasti ce ne torneremo subito a forlì e non gioverà a nulla rispose Tito con un gesto disperato delle braccia ce ne torneremo a forlì e Pitagora seguiterà pur sempre a vedermi qua a Roma come vuoi che sia altrimenti vivo qua sempre a Roma querino mio anche standovene lì sempre a Roma sempre a Roma negli anni miei belli scapolo libero felice come appunto mi ha visto Pitagora ieri stesso non è vero eppure ieri noi eravamo a forlì vedi che non dico bugie commosso esasperato querino lorenzi scosse rabbiosamente la testa e strizzò gli occhi per frenare le lacrime finora la pazzia del cognato non gli si era palesata in così disperate proporzioni via via riprese Tito rivolgendosi a me andiamo conducimi subito dove tu mi suoli vedere andiamo al mio studio in via Sardegna a questo la ci sarò voglio sperare che a quest'ora non sarò dalla sposina ma come se sei qui con noi Tito mio esclamai io sorridendo con la speranza di richiamarlo in sé dici sul serio non sai che io ho la specialità degli equivoci ho scambiato te per un signore che ti somiglia sono io infame traditore mi gridò allora il povero pazzo con gli occhi lampeggianti con un gesto di minaccia vedi questo povero uomo io l'ho ingannato ho sposato senza dirgliene nulla ora tu vorresti forse ingannare anche me di la verità stai d'accordo con lui gli tieni mano vuoi farmi sposare di nascosto conducimi in via Sardegna già so la via ti vado da me per non farlo andar solo fummo costretti ad accompagnarlo via facendogli dissi scusa ma non ricordi che non ci stai più in via Sardegna si arrestò perplesso a questa mia osservazione mi guardò un tratto accigliato poi disse e dove sto questo tu puoi saperlo meglio di me io oh bello come vuoi che lo sappia se non lo sai neanche tu la risposta mi parve convincentissima e tale da tenerlo fermo e inchiodato lì non sapevo che i cosiddetti pazzi posseggono anch'essi quella complicatissima macchinetta cavapensieri che si chiama logica in perfetta funzione forse più della nostra in quanto come la nostra non si arresta mai neppure di fronte alle più inammissibili deduzioni io se non so neppure che stia per prender moglie che vuoi che sappia io da forlì ciò che faccio qua solo a Roma libero come un tempo lo saprai tu che mi vedi tutti i giorni andiamo andiamo conducimi mi affido a te e andando di tratto in tratto si voltava a guardarmi con una muta sopplichevole imperrogazione negli occhi che mi passava il cuore perché con quegli occhi mi diceva che andava in cerca di se stesso per le vie di Roma in cerca di quell'altro se libero e felice del buon tempo andato e mi domandava se io lo scorgessi in qualche parte perché egli lo cercava con gli occhi miei che fino a ieri lo avevano veduto con inquietudine angosciosa sarà impadronita di me se per disgrazia pensavo ci avvenisse di imbatterci in quell'altro lo riconoscerebbe senza dubbio la somiglianza è così evidente e perfetta e poi con quelle scarpe che strillano ogni passo quell'animale fa voltare tutta la gente e mi pareva di sentire da un momento all'altro dietro di me il tri 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 di quelle scarpe maledette poteva non darsi il caso ma neanche dirlo Renzi era entrato in un negozio a comprare non so che cosa io e Tito lo aspettavamo sulla via era già quasi sera guardavo guardavo impaziente il negozio da cui Renzi doveva uscire e ogni minuto d'attesa lì fermi mi sembrava un'ora quando a un tratto mi sento tirare per la giacca e vedo Tito con la bocca aperta un sorriso muto di beatitudine povero figliuolo e con due grosse lacrime che gli gocciolavano dagli occhi chiari ilari parlanti lo aveva scorto me lo additava lì a due passi da noi solo fermo sullo stesso marciapiede mettetevi un po' una sola volta almeno nei panni miei senza ridere quel signore nel vedersi guardato e additato a quel modo si turbò ma poi accorgendosi di me mi salutò al solito tanto garbato poverino io mi provai di fargli un cenno di nascosto mentre con l'altra mano cercavo di tracinarmi via Tito non ci fu verso per fortuna quel lui aveva compreso il mio cenno e sorrideva aveva però compreso soltanto che il mio compagno era pazzo non si era affatto riconosciuto nelle fattezze di Tito mentre questi si subito in quelle di lui sfido erano le sue di tre anni fa era lui stesso che finalmente si incontrava qual era stato non più di tre anni fa egli si era accostato e lo contemplava estatico e lo accarezzava nelle braccia e nel petto pian piano sussurrandogli come sei bello come sei bello questo è il nostro caro Pitagora vedi quel signore mi guardava e sorrideva imbarazzato e timoroso e io per tranquillarlo gli sorrisi addolorato non l'avessi mai fatto Tito notò quel nostro sorriso e sospettando subito qualche intesa fra noi due si rivolse minaccioso a colui non prender moglie imbecille mi rovini vuoi ridurti come me straccione e disperato lascia quella ragazza non si scherzare stupido ma scalzone senza esperienza ma insomma gridò quel poveretto rivolto a me vedendo la gente accorrere curiosa stupita tutti intorno a noi io ebbi appena il tempo di dire non combatisca Tito mi fu sopra taci traditore e mi diede uno spintone poi si rivolse di nuovo a colui con tono dimesso persuasivo no calmati per carità ascoltami sei focoso lo so ma io debbo impedirti di trarmi alla rovina una seconda volta a questo punto Renzi accorse cacciandosi tra la ressa chiamando forte Tito Tito che è accaduto che gli rispose il povero Bindi guardalo eccolo là vuol riprender moglie diglielo tu che gli nascerà un bambino cieco diglielo che Renzi a viva forza se lo trascinò via poco dopo io dovetti spiegare ogni cosa a quel signore mi aspettavo che ne dovesse sorridere ma non fu così mi domandò costernato ma mi somiglia dunque tanto veramente ah ora no gli risposi ma se lo avesse veduto prima tre anni fa scapolo qua a Roma lei in persona speriamo allora che fra tre anni disse io non debba ridurmi come lui dopo tutto questo avevo sì o no il diritto di credere che tutto fosse finito ebbene no signori ho ricevuto l'altro ieri dopo circa due mesi dall'incontro che ho narrato una cartolina firmata Ermanno Levera dice così caro signore annunzia quel tale Bindi che è stato obbedito non ho potuto più dimenticarlo ma è rimasto davanti come lo spettro del mio destino imminente ho sconcluso il matrimonio e parto domani per l'America suo Ermanno Levera ecco se io non lo avessi salutato povero giovine scambiandolo per quell'altro a quest'ora chissà egli potrebbe essere un marito felice chissà tutto può darsi a questo mondo anche certi miracoli ma penso che se l'incontro con quell'altro potesse lui tanto da produrre un tale effetto anche egli dovette credere di incontrarne il Bindi se stesso quale sarebbe stato fra tre anni e fino a prova contraria non posso in coscienza asserire che questo signor Levera sia anche lui pazzo ma aspetto intanto che una di questi giorni mi capiti la visita della sposina abbandonata e della mancata suocera e spedisco tutte e due a Forlì parola d'onore chissà che non si riconosceranno anche loro nella moglie e nella suocera del povero Tito Bindi ormai pare anche a me che siano tutti realmente una sola cosa con soltanto quel bambino cieco in più che qua se Dio vuole non nascerà se è vero che questo signor Levera è partito ieri per l'America che ci sono